E' l'allegria della nostra La nostra musica della nostra sigla ci fa iniziare insieme una nuova settimana. Buon lunedì a tutti voi che ci state seguendo. Torniamo anche oggi in diretta puntualissimi con il nostro Biandanti sulle strade del Vangelo. Bentrovato e buongiorno a Fra Raffaele. Grazie Maria Antonia. Buongiorno anche a voi telespettatori. Oggi siamo contenti di essere con voi, di fare ancora una volta un altro viaggio sulle strade del Vangelo. E vorrei iniziare oggi proprio ricollegandomi un poco alla giornata di ieri che abbiamo vissuto, la giornata mondiale dei giovani. Il Papa ha celebrato nella Basilica e ha detto anche delle parole che sono piene di speranze per tanti giovani. Rivolgendosi proprio a loro dice di stare in piedi mentre tutto va a rotoli. Essere anche delle sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne e ancora essere costruttori in mezzo alle macerie. Ecco, dicevo, sono parole proprio di speranza perché quando il Papa parla ai giovani non parla soltanto ai nostri giovani dell'Occidente ma io penso che ha a cuore i giovani del mondo intero e soprattutto quei giovani dove veramente si aggrappano alla speranza per vedere un mondo migliore. E allora perché non pensare anche ai nostri giovani nelle nostre missioni? Ecco, a livello di missione la Chiesa si è sempre impegnata per i giovani. Io ricordo quanto ero lì a BAM che abbiamo iniziato anche delle cose per indrattenere i giovani perché c'era una piaga e la piaga è quella di emigrare perché i giovani hanno in sé quella speranza di trovare sempre un mondo migliore. Certo, giustamente hanno anche il desiderio di costruire un futuro lì dove ci sono più possibilità. Certo, e loro partivano sempre per esempio nel vecino Camerun che credevano che fosse uno Stato più ricco, un qualcosa dove gli potesse offrire qualche opportunità. E molto spesso poi ritornavano ancora più poveri di prima. Ecco perché la Chiesa diciamo si è sempre impegnata a fare qualche cosa per loro, a dare qualcosa di diverso perché il giovane non può scommettere solo su quello che deve fare, sul lavoro che fanno i genitori. Loro sognano e sognano alla grande. Nelle nostre missioni abbiamo creato tante cose, penso che fra poco ne avremo modo anche di parlare. Con il nostro inviato speciale che è Fra Antonio Di Mauro, anzi approfittiamo anche per ringraziarlo perché davvero ogni settimana non fa mancare la sua presenza, ci fa conoscere un pezzetto in più di quelle che sono le missioni Padre Pio, missioni nelle quali tu hai operato, ricordiamolo, per oltre dieci anni. Certo. Scusa ma mi si è messo qualcosa alla gola oggi stamattina. È normale, succede, a volte anche l'aria condizionata che ci dà fastidio. Però Fra Raffaele, adesso vedremo il video di Fra Antonio Di Mauro. La cosa bella, quando chiacchieriamo anche io e te a Telecamere Spente, è che tu ricordi sempre con tanto piacere il tuo periodo trascorso lì. E quando ci arrivano anche i video di Fra Antonio che guardiamo insieme, tu ti ricordi anche i tanti passi, a piccoli passi si costruiscono grandi cose, no? Certo, certo. E allora vediamolo, vediamo questo video che ci ha mandato questa settimana il nostro carissimo Fra Antonio Di Mauro. Scopriamo dove ci porta a proposito proprio anche di giovani. Guardiamolo insieme. Amici carissimi di Padre Pio TV, pace e bene a voi tutti. Quest'oggi mi trovo ancora nella nostra missione cattolica di Bebo Cum e insieme facciamo un tour nella nostra biblioteca intitolata La Madonna della Libera. Ecco, in realtà questa struttura è stata realizzata dal nostro confratello Padre Attilio da Rugana, il quale ha voluto fortemente realizzare questo edificio per lasciare l'impronta dell'amore di Dio verso questo popolo. Infatti questa struttura nasce come museo, ma non soltanto per conservare la tradizione del popolo Mboum, ma specialmente per vedere il cammino che questo popolo ha fatto nella fede. Mi viene da pensare infatti come prima per questo popolo il punto di riferimento erano i marabui, i famosi stregoni. Ora invece per molti il punto di riferimento è Cristo stesso. Prima il museo era dislocato nelle due grandi sale, come potete vedere c'è una porta d'ingresso alla mia sinistra e un'altra porta d'ingresso alla mia destra. Ora invece per far fronte alla bellissima richiesta dei giovani abbiamo riadattato il museo in una delle due grandi sale e in questa sala abbiamo realizzato la biblioteca. In realtà i lavori di adattamento sono stati realizzati grazie al contributo generoso dei parrocchiani di Pietrelcina e grazie anche agli stancabili lavori di Prad Daniele Moffa. Ci troviamo adesso nella sala della lettura. In realtà questa è una sala possiamo dire polivalente, perché come potete vedere di fronte abbiamo un palcoscenico e abbiamo voluto fortemente realizzare questo palcoscenico in modo tale da sensibilizzare i giovani nell'arte del teatro, oppure nella danza, nel cineforum, tutto ciò che riguarda, possiamo dire, la fraternità. Entriamo adesso nella sala dove vengono conservati tutti quanti i libri. Abbiamo un numero abbastanza notevole di libri, di testi scolastici e di romanzi. Alla mia sinistra qui abbiamo tutti i testi scolastici che partono dalla prima elementare fino al liceo. Di fronte invece abbiamo tutti i libri spirituali. Vi voglio far vedere, ecco un piccolo particolare qui. Questo è il Vangelo tradotto in lingua BUM. Qui c'è la porta che è d'accesso al museo, però veramente sono molto molto dispiaciuto perché stiamo ancora in cantina aperta per far fronte all'umidità. Stiamo cercando di trovare una soluzione per evitare l'umidità. Abbiamo ancora qui tutte le riviste e ancora continuiamo con tutti i romanzi in lingua francese, libri per bambini. E da quest'altra parte abbiamo tutti i dizionari utili per lo studio. Vi ringrazio di vero cuore per la vostra attenzione e auguro a tutti voi la pace nel cuore. Grazie a te Fra Antonio, grazie a tutti quelli che hanno collaborato e collaborano per le missioni Padre Pio perché è importante ricordarlo che ovviamente le vostre missioni sono presenti in Chad e in Centrafrica, però non sono un mondo a parte. C'è un legame continuo con le comunità qui parrocchiali che comunque non fanno mancare il loro sostegno, la loro presenza. Fra Antonio ricordavo appunto che questa biblioteca è stata realizzata col contributo dei parrocchiani di Pietrelcina e vogliamo approfittarne, siccome qualcuno ci ha anche chiesto come fare ad essere vicini alle missioni Padre Pio, ad essere presenti, che c'è un sito internet Missioni Padre Pio che chiedo alla regia di mandare in onda e su questo sito potete approfondire anche quali sono le attività delle missioni perché sicuramente ci saranno anche tanti giovani che ci seguono a proposito di giovani che magari hanno voglia di fare delle esperienze missionarie. Allora sul sito www.missionipadrepio potete approfondire davvero quelle che sono le missioni, le attività, i progetti in corso anche per chi ha voglia appunto di sostenerli. A proposito di progetti fra poco racconteremo di un altro importante progetto che è stato realizzato proprio nelle vostre missioni. Fra Raffaele, prima dello spot, prima di fermarci per la pubblicità, volevo una riflessione con te anche su questo, proprio su questo legame profondo tra l'Italia, le comunità parrocchiali che si prodigano davvero per mantenere e sostenere le vostre missioni. Intanto ringrazio Fra Antonio perché ci fa vedere sempre queste immagini e come dicevi tu su quelle immagini io poi mi ricollego sempre anche a quello che ho vissuto io nella missione. Ecco anche non solo a Baibokum ma anche a Bam, a Gore, in genere in tutte le missioni abbiamo sempre costruito dei centri sportivi, polivalenti, dei centri dove i giovani soprattutto venivano impegnati in queste attività proprio per dare qualcosa che non trovavano nei loro villaggi perché altrimenti finivano con l'alcol o con altre altre brutte pieghe. Ecco allora la Chiesa dava sempre queste iniziative. Questa speranza, no? Possiamo sintetizzare anche così. E dicevo che tutto questo è stato realizzato anche grazie ai contributi di tanta gente. Quando ero missionario, quando venivo a quel mese di vacanza, ecco chiedevo per realizzare dei progetti. Così facevano tutti gli altri missionari e sono cose che abbiamo potuto offrire a questa gente. Bene, bellissimo questo legame che comunque non si interrompe. Del resto c'è sempre bisogno di essere parte tutti di un unico progetto affinché poi ci siano risultati migliori. Noi ci fermiamo per pochi istanti. Diamo la linea alla regia però poi torniamo ancora qui perché il nostro racconto, il nostro viaggio sulle strade del Vangelo continua. A fra poco. Eccoci qua, torniamo velocemente come promesso e abbiamo il piacere di dare il bentrovato perché è un ritorno qui a viandanti sulle strade del Vangelo. A fra Raffaele Maddalena, segretario delle missioni Padre Pio. Buongiorno fra Raffaele. Buongiorno Maria Antonia, buongiorno anche a padre Raffaele. Buongiorno. Sì, oggi raddoppiamo, oggi siete in due, vogliamo abbondare. Ascolta fra Raffaele, intanto io ti ho presentato come segretario delle missioni, poi faccio sempre un po' di fatica con i titoli, quindi spero di non aver sbagliato. Per me sei innanzitutto fra Raffaele, missionario. Grazie. Ascolta fra Raffaele, stiamo raccontando un po' quello che sono le vostre missioni, i progetti che ci sono, quelli in cantiere, quelli realizzati. Vogliamo con te oggi parlare di un progetto molto importante. Abbiamo nella prima parte visto, grazie al nostro inviato, Fra Antonio, la biblioteca, lo spazio ricreativo. C'è un progetto però che riguarda la salute e nello specifico un centro di riabilitazione che è un presidio davvero fondamentale lì. Sì, sì. È praticamente un centro di riabilitazione fisica per i menomati e che ho avuto la gioia e la fortuna anche di qui essere responsabile nel mio ultimo anno di permanenza in Africa. Si tratta del centro in francese Notre Dame de la Paix, casa signora della pace di Moundou, un centro di 200 mila abitanti. Ed è un centro che è veramente un punto di riferimento non solo per il sud del Chad, della zona di Moundou, ma anche per tutto il Chad, per il Cameron vicino e per il centro Africa a sud del Chad. Ha veramente una grande importanza oramai per lo sviluppo che ha avuto, praticamente. Questo centro è nato grazie all'interesse di un padre cappuccino francese, padre Michel Guembeau, che era un fratello laico, non sacerdote, arrivato in Chad negli anni 60 e rimase veramente scioccato nel vedere tanta folio, tante conseguenze della folio. Bambini e giovani che camminavano con quattro gambe, praticamente. Quindi, e questo lo ha colpito molto. E da quel momento lui ha pensato di organizzare qualcosa per questi bambini. Ha cercato di immaginare, di cominciare, siccome era uno specialista in falegnameria, ha cercato di cominciare a organizzare qualcosa, facendo delle piccole stambelle in legno. Però col tempo ha capito, ingoraggiato da alcuni medici, che poteva organizzarsi diversamente. Ed ha inviato alcuni giovani del posto a formarsi in Cameron, proprio nel campo della riabilitazione. E ha avuto dei giovani locali formati. Da quel momento il centro ha cominciato a svilupparsi. E da dove era nato, lì a Benoia, a 60 km da Mundù, l'ha trasportato proprio nel centro di Mundù. Ed ha avuto uno sviluppo sempre più grande. Fino ad arrivare, negli ultimi decenni, a un interesse, grazie all'intervento di gruppi di medici venenti dalla Francia e dalla Spagna. Gruppi bene organizzati, dove c'era il chirurgo, c'era l'anestesista, c'era l'infermiere, l'aiuto medico. C'era tutta l'equip, la staff organizzata e arrivando in Chad potevano usufruire del blocco operatorio di Mundù, dell'ospedale, che loro stessi avevano fatto riparare e mettere in norma convenientemente. Però con l'impegno di poterlo utilizzare ogni volta che loro sarebbero scesi per delle missioni chirurgiche. Praticamente quattro volte l'anno. Una volta ogni trimestre questi medici si organizzano per scendere giù, anziché fare le loro vacanze, si impegnano a scendere giù per un periodo di 15 giorni e durante i 15 giorni operare in continuazione. E vi dico che sono veramente dei miracoli che si realizzano in quel piccolo ambiente. Noi stiamo vedendo anche fra Raffaele, mentre tu ci parli, le immagini che ci hai dato, che ovviamente documentano quello che tu ci stai raccontando. La cosa bella ha ovviamente, oltre al segno concreto di una speranza anche per queste persone di poter avere una vita normale, la cosa bella è anche questa unione tra mondi apparentemente lontani. Quindi tu parli di questi medici volontari. Insomma, questo credo che sia davvero nelle missioni la ricchezza più grande anche, no? Il volontariato. Il volontariato è qualcosa di straordinario, perché ci sono tante energie messe al servizio dei fratelli e che si arrivano a fare veramente miracoli. Ripeto, ecco, vedere giovani e bambini che camminano all'inizio in quel modo e poi vederli camminare in piedi come noi tutti è veramente un miracolo vivente. E questo si allarga anche al mondo facciale, perché ci sono anche degli interventi in plastica e vedere dei visi sfigurati, poi che ritrovano un sorriso, sono veramente miracoli nell'ordinario. Ascolta, fra Raffaele, prima parlavamo, abbiamo, vedendo il video della biblioteca, abbiamo ringraziato anche i parrocchiani di Petrelcina che hanno contribuito alla realizzazione. Ora tu ci stai raccontando ovviamente anche dell'importanza fondamentale, ovviamente del volontariato di tanti medici che vengono lì per operare in maniera del tutto gratuita, ovviamente dando, come dire, mettendo al servizio di chi ha bisogno il loro talento, la loro professione. C'è un modo anche per rimanere in contatto con voi? Abbiamo prima fatto vedere il vostro sito missionipadrepio.it per chi magari ha voglia di mettersi anche a disposizione per i tanti progetti delle missioni. Sì, sì, è possibile, perché ci sono delle richieste anche da parte dei certi indispensari tenuti da suore italiane. Penso in questo momento a Maigaro, in Centrafrica, un ospedale veramente a un certo livello, dove le suore di Gemona hanno realizzato quest'opera, e anche lì sono veramente di una grande importanza in tutta la regione. E queste suore hanno bisogno di volontari medici e anche se sono italiani, non conoscendo bene la lingua, possono dare veramente un apporto importante. E allora invitiamo a visitare ancora una volta il sito www.missionipadrepio.it e lì ci sono i contatti, potete scrivere, chiamare, insomma, sicuramente avrete risposta alle vostre domande. Fra Raffaele, so che c'è anche un progetto legato al Natale che state seguendo in qualche modo. Sì, stiamo pensando di distribuire nelle famiglie, non solo ai bambini come si faceva una volta, di distribuire i salvadanai, perché credo che sia veramente un metodo per aiutare le famiglie a pensare alla missione, all'annuncio del Vangelo, non solo un giorno all'anno, come tante volte si fa con la giornata missionaria, ma a pensarci 365 giorni all'anno. Ecco, col salvadanaio è un ricordo continuo a poter aiutare quella gente, quei bimbi, per le scuole, per tutto, proprio con dei piccoli gesti quotidiani. Saranno 25 centesimi, 50 centesimi, un euro, ma quella goccia continua ogni giorno che cade in quel salvadanaio diventa veramente un pozzo d'acqua che può essere veramente una ricchezza per quella gente. Allora, intanto ti facciamo promettere che tornerai prima di Natale a trovarci, a raccontarci anche come sta andando questo progetto. Ancora un paio di minuti, voglio chiederti una riflessione. Fra poco ascolteremo una bellissima testimonianza, un'intervista a padre Giulio Albanese, che tu sicuramente conosci, missionario, giornalista, con lui abbiamo parlato anche di come si racconta l'Africa anche per evitare i luoghi comuni. Spesso noi cadiamo nell'equivoco di sentirci sempre dei benefattori di chi va a donare qualcosa. Allora vorrei una riflessione con te anche su questo, perché so che anche tu ci tieni a spiegare che si dà, ma soprattutto si riceve. Sì, quando si dice che è dando che si riceve, è un'esperienza che il missionario fa continuamente. Tante volte noi pensiamo essere noi coloro che danno a loro la parola di Dio, gli aiuti materiali, ma in realtà si riceve da quella gente una ricchezza che noi tante volte di cui abbiamo veramente bisogno. C'è quella disponibilità, per esempio, ad accogliere la parola di Dio che noi cristiani del benessere abbiamo veramente messo da parte e loro ce lo ricordano con loro impegno. Partendo o facendo chilometri, per esempio la domenica, ad accogliere la parola di Dio nel villaggio dove il sacerdote si reca per celebrare l'Eucaristia, vedendo tanti catecumeni che tre volte la settimana sono presenti all'insegnamento della catechesi durante quattro anni per ricevere il loro battesimo, sono tutti segni che ci toccano per dire l'importanza che questa gente dà alla parola di Dio. E poi io lo ripeto sempre, proprio il titolo che hanno dato al Vancello, detto in lingua loro, in lingua gambai, Targ Arrosile El Si, che tradotto significa la parola che ci rende felici, ebbene credo che per loro è una realtà. Cercano nel Vancello la forza necessaria per essere felici, malgrado le grandi difficoltà che vivono ogni giorno. Grazie fra Raffaele per averci offerto davvero questi spunti di riflessione importanti. Mi piace la tua definizione di cristiani del benessere, che spesso dimentichiamo. E poi non è un caso che nella loro traduzione del Vancello ci sia la parola felicità, che è un elemento, parliamo anche di gioia, che forse ancora più giusto, è un elemento che noi spesso trascuriamo, quello della gioia nell'essere cristiani. Fra Raffaele, non so se tu hai qualcosa da chiedere, immagino che voi ovviamente avete avuto tante occasioni per incontrarvi e parlarvi. Sì, no, innanzitutto volevo ricordare Raffaele, se ci puoi dire in qualche secondo come è nata proprio quella iniziativa del centro di Michel Guimbaud, perché se non ricordo male c'era una bambina che aveva chiesto qualcosa a Michel, non so. Sì, sì, infatti, jatar significa camminare, mettersi in piedi. Una bambina all'inizio disse a Frè Michel Guimbaud, padre, bom, significa padre, dighi in jatar, desidero camminare in piedi. E questo colpì padre Michele e lo aiutò a cominciare a pensare seriamente a questo suo progetto. E questo è stato poi, diciamo, il miracolo che ha suscitato il miracolo, ecco. Ed è una bellissima cosa ricordare. E poi anche la gioia di cui tu parlavi, noi abbiamo vissuto tante di quelle gioie in ogni cerimonia, erano danze, canti, gridi di felicità. E questo ci fa riflettere tantissimo, perché veramente la parola di Dio è una parola che mette gioia nei nostri cuori. Grazie fra Raffaele. Allora, mi raccomando, è la promessa di tornare prima di Natale. Buone cose, pace bene e a presto a questo punto. Pace bene, padre. Pace bene e grazie a voi, Maria Antonia, grazie di cuore. Grazie a te, fra Raffaele. Allora, noi continuiamo, però ci fermiamo ancora qualche istante, perché c'è ancora una breve interruzione, ma poi torniamo ancora qui, come anticipato, con la testimonianza e l'intervista a padre Giulio Albanese. Eccoci qua, ritorniamo per la nostra ultima parte di questa diretta, vi andiamo sulle strade del Vangelo, come detto già prima dell'interruzione. Vogliamo ora ascoltare insieme l'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa a padre Giulio Albanese, missionario giornalista, con lui abbiamo parlato di Africa, abbiamo parlato anche di quale sia il modo giusto anche per raccontarla. Allora, ascoltiamola insieme. Buongiorno a padre Giulio Albanese, che non ha bisogno di presentazioni, però la presento innanzitutto come missionario e come giornalista, è proprio da queste due parole che vorrei partire, perché le confesso, padre Giulio, che io mi sento sempre un po' scomoda quando bisogna parlare degli argomenti e dei temi che riguardano l'Africa, perché mi sento, o temo la retorica, e mi sento a volte anche inadeguata a parlare di tanta sofferenza e di un paese, un continente così anche complesso come quello dell'Africa. Mentre lei lo conosce benissimo e allora le chiedo da missionario e da giornalista qual è il modo giusto di raccontarlo innanzitutto. Credo che il primo sforzo che dovremmo fare è quello di andare al di là del pregiudizio. Inutile nascondercelo, siamo profondamente condizionati dai cosiddetti luoghi comuni e spesso, me lo lasci dire, con fare altezzoso guardiamo alle Afriche con un atteggiamento paternalistico. Ci sentiamo sempre comunque benefattori nei confronti di tanta umanità dolente. Ecco, io sono qui a dirvi che le Afriche, uso il plurale perché è un continente che è tre volte l'Europa, le Afriche non sono povere, semmai sono impoverite. E devo dire di più, le Afriche non sanno che farsene della nostra carità pelosa, di quel fare saccente che guarda i poveri dall'alto verso il basso come se noi fossimo il ricco e pulone nei confronti del povero Lazzaro. Piuttosto le Afriche invocano giustizia, il riconoscimento, la dignità. E credo che l'operazione dunque, prima ancora che essere legata ad azioni di tipo politico, sociale, economico, la vera sfida sia una sfida culturale. Dobbiamo davvero cambiare atteggiamento e fare tesoro di quello che direi è il bagaglio di saperi di questo continente. Mi viene in mente quello che scriveva alcuni anni fa un grande intellettuale senegalese, il compianto Leopold Sedar-Senghor, il grande maestro della negritude. Il passato ci ha trovato divisi, perché le Afriche sono state terra di conquista, ma dobbiamo avere il coraggio di osare, di incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere, perché abbiamo un destino comune. Da questo punto di vista le agenzie educative, e quando parlo di agenzie educative parlo soprattutto della famiglia, della scuola, ma anche delle nostre comunità cristiane, siamo chiamati tutti a una decisa assunzione di responsabilità, perché forse mai come oggi dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Dobbiamo contrastare la globalizzazione dell'indifferenza, stigmatizzata in più circostanze da Papa Francesco, soprattutto dobbiamo contrastare la cultura dello scarto. A proposito di globalizzazione dell'indifferenza, Padre Giulio, vorrei fare una riflessione con lei in questo momento. La pandemia ha travolto le nostre esistenze a livello globale, però di fatto il nostro sguardo paradossalmente è rimasto nel nostro piccolo mondo. Allora pensiamo anche al dibattito pubblico sui temi quali i vaccini, qui si discute molto appunto delle percentuali dei vaccinati, delle manifestazioni NoVax e No Green Pass, dimenticando spesso come dall'altra parte del mondo, appunto come in Africa, una vera campagna di vaccinazione non può esserci perché manca proprio l'accesso ai vaccini. Ecco, io vorrei ricordare innanzitutto che in Africa noi da tanti anni abbiamo il flagello dell'AIDS, il flagello della tubercolosi, il flagello della malaria e devo dire che il cammino che è stato fatto in questi anni non è riuscito assolutamente a garantire la sicurezza dal punto di vista della salute per milioni di africani, il cammino è ancora lungo, anche perché è inutile nasconderselo, per le compagnie farmaceutiche l'Africa non rappresenta una grande opportunità, perché gli africani, i governi locali non sono nelle condizioni di pagare. Poi cosa dire delle malattie tropicali neglette che potrebbero essere affrontate senza grande dispendio di denari se vi fosse la volontà politica di aiutare le popolazioni in particolare dell'Africa subsahariana. Dunque, come dire, il Covid è l'ultima di una lunga serie, peraltro ho tralasciato la sciagura di ebola che certamente è più circoscritta dal punto di vista dei contagi. Il Covid certamente è l'ultima sorpresa, è appesantemente condizionato le Afriche, non solo per quanto concerne il sistema sanitario dei singoli stati, se non vado errato, al momento attuale coloro che in Africa hanno ricevuto la seconda dose possono essere più o meno massimo il 3% della popolazione complessiva. Teniamo presente che in Africa vive una popolazione di oltre un miliardo e 300 milioni di persone, ma il tema è anche un altro. Non ci rendiamo conto dei side effects, degli effetti collaterali della pandemia, soprattutto sull'economia continentale. La verità è che le agenzie di rating, che sono tre, Standard & Poor's, Moody e Fitch, hanno pensato bene nel corso della pandemia di declassare le migliori economie africane. Appena era esplosa la pandemia in Africa hanno declassato le 10 migliori economie africane. Questo naturalmente ha fatto sì che i titoli obbligazionali di questi paesi diventassero spazzature, a carta straccia, il che ha aperto una voragine per quanto concerne il debito. Il debito rappresenta davvero la vexata questio per molti nazioni africane. Quello che devo dire è che spesso chi è nella stanza dei bottoni a livello internazionale, nei grandi centri di potere, si riempie la bocca di slogan, ma le parole, mi dispiace dirlo, spesso si dissolvono in bolle di sapone. Spesso si dice che dobbiamo aiutare gli africani a casa loro. Io come missionario sono qui a dire che il Consenso delle Nazioni spesso fa l'esatto contrario. A proposito di missionari e a proposito anche di situazioni di terre provate e messe in ginocchio anche da conflitti, apriamo un attimo una parentesi sull'Etiopia che da circa un anno è attraversata da un conflitto che ha causato davvero tante vittime e una grave crisi umanitaria. Amnesty International parla di un'ondata di arresti su base etnica. Lo scorso 5 novembre erano stati arrestati 17 missionari salesiani, poi rilasciati. Lei in un'intervista definì i missionari, e immagino si riferisse soprattutto a quelli presenti in queste zone di guerra, caschi blu di Dio. Sì, nel senso che sono una pacifica forza di interposizione tra gli opposti schieramenti. I missionari e le missionarie, non parliamo solo dei maschi ma anche delle donne, è importante sottolinearlo perché c'è anche una missione femminile, sono davvero una pacifica forza di interposizione e dunque hanno fatto la scelta di stare dalla parte della gente, dalla parte non solo delle comunità cristiane ma della società civile. I nostri missionari e missionari e spesso sono davvero araldi del Vangelo, nel senso che testimoniano i valori del Regno. Penso alla pace, la giustizia, la solidarietà, il bene comune, il rispetto del creato. E da questo punto di vista in molte circostanze si sono rivelate voci scomode le loro. Non fosse altro perché hanno smascherato l'inganno. Ricordiamo che ci sono milioni e milioni di persone che spesso vengono immolate sull'altare dell'egoismo umano in nome del Dio Quattrino. E quando dico Dio Quattrino è Dio con la D minuscola. La verità è che in Africa noi abbiamo una quantità smisurata di commodity, vale a dire le materie prime, raw materials, e spesso queste guerre che si combattono, si combattono per interessi economici, per il controllo delle risorse minerarie. Mi viene in mente quello che diceva un grande economista francese morto a Roma nel 1850, Fédéric Bastiat, il quale diceva in un suo trattato sul libero scambio delle merci. Dove non passano le merci assano gli eserciti. Questo a significare che l'aspetto economico spesso condiziona il destino dei popoli. Questo era vero per l'Europa, un tempo, per certi versi lo è ancora oggi, guardando a quello che succede sul versante orientale del vecchio continente, ma direi è vero, verissimo, di grande attualità per le Afriche del nostro tempo. Noi la ringraziamo davvero, Padre Giulio, per averci fatto compagnia in questo spazio, per averci portato le sue importanti riflessioni e considerazioni. Grazie davvero. Grazie a voi. Davvero interessante far fare questa intervista a Padre Giulio, ovviamente il racconto di un uomo che conosce profondamente quei luoghi e che ovviamente ci offre anche un punto di vista diverso rispetto a quello appunto a cui siamo magari abituati a pensare, no? La povertà, la crisi economica. Sì, mi ha colpito soprattutto quando lui ha detto che l'Africa non è povera ma è impoverita. Si vede che un uomo che conosce, come tutti i missionari, anche quella frase che ha detto alla fine, dove non passano le merci, passano gli eserciti. Ecco, sono realtà che veramente si vivono in Africa, perché dietro a quelle guerre, dietro a questi conflitti che nascono come focolai da una parte e dall'altra, c'è sempre l'interesse, non so se si può dire, di multinazionale, di sfruttamento dell'oro, di diamante, di tante materie prime, che è in quel modo che l'Africa viene veramente impoverita, perché l'Africa, io posso anche dirlo e testimoniarlo, l'Africa dove eravamo noi è ricchissima di tante terre, se solo ci fossero che ne so, motori per arare la terra, pompe per fare pozzi artesiani e tirare l'acqua, irrigare, ecco, tutto questo veramente sarebbe una ricchezza per l'Africa e vedremmo anche tanti giovani che si inserirebbero molto facilmente invece di fuggire e poi fanno apparire che si fugge perché ci sono le guerre, ma sono guerre create. Allora, grazie fra Raffaele per essere stato con noi anche questa mattina, ringraziamo ovviamente tutti voi per averci seguito, vi andanti sulle strade del Vangelo, ritorna come sempre lunedì, ora lo spazio e con l'informazione del mondo intorno, grazie. Pace e bene. Grazie. Grazie. Grazie.